Vuoi sposarmi? Un ex-Gefina ha fatto una proposta di matrimonio. Si tratta di un ex-Gefina della scorsa edizione del Grande Fratelli. Chi è? Forse Perla Vatiero e Mirko Brunetti. Oppure Greta Rossetti e Sergio Dottavi. O ancora Letizia De Pretris e Paolo Masella. No, sono queste tre coppie. Ma è un'altra tratta dell'ex-Gefina Angelica Baraldi che spiazza veramente tutti e chiede al suo fidanzato se vuole sposarla. Al settimane di più la ragazza ha scritto una lettera aperta al suo fidanzato Rick e gli ha chiesto, a sorpresa, di sposarla perché è sicura che lui è quello giusto. L'uomo della sua vita. Come abbiamo visto, la bella. Vorrei farti una proposta. Forse un po' inisuale quando a farla non è un uomo ma una donna. Ma a me piace andare in controcorrente. Rick, vuoi sposarmi? Vuoi essere mio marito? Aspettiamo ora il sì di Riccardo. Un sì, naturalmente, per tutta la vita.